amici di basket italy bentornati innanzitutto in questa nostra nuova puntata per raccontare insieme a voi e insieme a noi ai nostri inviati questa nostra questa nostra e vostra stagione di lba 2023 2024 che ha preso preso inizio la settimana scorsa per cui ci scusiamo anche per non essere riusciti a raccontare quello che è stata la prima giornata ma niente panico perché quest'oggi siamo qui per raccontarvi la seconda e sicuramente non mancheremo per le prossime puntate e insomma oggi non potevo che non chiamare per questa premissima premissima puntata quello che io come dire ricordo sempre come il nostro pioniere il nostro numero 9 quale jack da napoli che saluto e auguro insomma bentornato ciao jack ciao nicolò un abbraccio carissimo e chiaramente un saluto a tutti gli amici di basket italy che ci seguono jack con te prima di partire con la nostra chiacchierata volevo ricordare come sempre chi ci sta ascoltando o ci sta vedendo insomma di se siete su youtube di continuare a guardarci a guardare le nostre puntate e di iscrivervi al nostro canale youtube se invece state ascoltando di continuare a farlo sulle nostre piattaforme di podcasting poi su tutti ormai conoscete meglio di noi spotify ma anche apple podcast google podcast audible insomma qua sotto nei commenti su youtube c'è descrizione trovate tutti i link cui potete accedere a tutte le piattaforme in cui ci potete trovare insomma dove potete ascoltare i nostri contenuti o vedere i nostri contenuti bene già che detto questo partirei con te parlando della giornata appena trascorsa ma prima di partire con si va a parlare di gesta parlare di giocata parlare di risultati eccetera eccetera farei con te insomma gli auguri di grande in bocca al lupo un grande bocca al lupo ad achille polonara che domani si sottoporrà a un intervento molto delicato forza achille ti aspettiamo presto sul parquet di tutta italia di eurolega grande giocatore grande protagonista anche con la maglia della nazionale quindi insomma siamo sicuri che che da grande lottatore qual è sempre anche sul parquet vincerà questa questa battaglia tornerà rapidamente a insomma a farci a farci gioire per i suoi canestri in tutti i parquet quindi forza achille in bocca al lupo esatto soprattutto quest'anno visto il suo ritorno in italia dopo diversi anni che ha girato spagna e turchia su tutti bene giacca allora detto detto questo partiamo ora davvero con la nostra chiacchierata serale partendo da un mio fare con te una panoramica sui risultati certo quelli che sono stati i risultati di questa seconda giornata di lba che ha visto la brescia e direi che è una delle squadre più voga del campionato vincere in trasferta 99 71 contro treviso napoli e ne parleremo molto più approfonditamente dopo che schianta una quasi riconoscibile olimpia milano che oserei dire qua già quasi mi rottici dipendente per 77 a 68 la reggiana invece un'altra squadra rivelazione finora e queste due giornate che abbiamo visto di campionato schianta scafati 85 77 trento colpo esterno in casa di pistoia 73 a 78 anche cremona mette in insomma la prima vittoria da parte in casa contro di nono sassari tortona vince di un punto contro brindisi per 69 68 la virtus bologna schianta invece varese con un risultato rotondissimo tra cui 115 84 e chiude la giornata venezia pesaro con venezia che batte se per 76 a 64 la vl pesaro che è sola e in classifica assieme alla dinamo sassi tra le più quotate ecco diciamo c'è da che spunti vorresti ripartire da questa questa panoramica diciamo che dopo due giornate di campionato c'è già qualche sorpresa sia in positivo che negativo se vogliamo eh non si può parlare di sorpresa né della virtus a punteggio pieno né tanto meno di brescia che comunque insomma ci dice l'ultima coppa italia finalista di supercoppa eh sta dimostrando tutto il suo valore diciamo che ci sono alcune sorprese in positivo e qui insomma lo dico anche con un pizzico di soddisfazione c'è diciamo contro pronostico perché Napoli ha vinto prima a Sassari con un 111 a 90 insomma perentorio e poi addirittura ha battuto in casa i campioni d'Italia delle delle a7 Milano una partita di cui parleremo magari tra poco in modo più approfondito condotta dall'inizio alla fine da 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 Napoli con Milano che chiaramente ha pagato eh l'impegno ravvicinatissimo dei loro legati però insomma il negativo possiamo mettere sicuramente Sassari che che insomma eh perde la seconda partita di file e quindi insieme a Pesaro altra altra diciamo così sorpresa non positiva è a zero punti Sassari però che ha sicuramente dalla sua l'attenuante di avere avuto una serie di infortuni in particolare quello di Benzius ma eh anche Tahiri praticamente ha referto solo per onor di firma eh questa domenica e Calan Popos ancora a mezzo servizio quindi una squadra che lo stesso nostro comune amico Nicola Cascioni io me l'ho confrontato con lui prima della della prima di campionato per sapere un po' le condizioni di Sassari mi diceva eh Sassari è un cantiere aperto e direi che purtroppo per Sassari lo stanno confermando un po' questi risultati molto bene anche Venezia direi che ha vinto molto molto bene la prima partita contro Tortona in casa eh e si è confermata anche questa settimana eh Tortona invece un po' fatica perché comunque ha ha vinto ha perso male la Venezia ha vinto solo di un punto contro contro comunque insomma eh adesso mi sfugge contro ha vinto però partita molto molto combattuta e quindi contro Brindisi contro Brindisi che comunque una squadra coriacea però una partita tra le più interessanti sicuramente di di questo inizio di campionato quindi una classifica chiaramente che 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 è ancora cortissima ma che già dà qualche indicazione eh insomma che perché per Milano non sarà facilissimo la stessa Bologna Scafati affaticato eh Reggio Emilia molto bene anche anche Reggio Emilia punteggio pieno quindi insomma tanti tanti spunti interessanti in attesa chiaramente di vedere come si dipanerà la classifica man mano che andremo avanti con le con le giornate esatto farei con te quindi anche una panoramica sulla classifica anche se chiaramente parliamo della classifica molto corta perché a quota a quattro punti abbiamo eh Virtus, Reggiana, Napoli, Brescia, Venezia e Trento a quota due abbiamo Cremona, Milano, Tortona, Varese e poi abbiamo quelle a zero che sono Pistola Scafati, Pesaro, Brindisi, Sassere e Treviso eh ti faccio una domanda un po' come dire fuoricampo anche se so che è molto presto però secondo me su alcune squadre potrebbero essere degli indizi eh da seguire eh alcune squadre come la Reggiana, Brescia, Venezia, la tua Napoli possono avere un ruolo da outsider a questo campionato o o no? Ma secondo me sì assolutamente perché secondo me i valori eh del campionato negli ultimi anni sono andati livellandosi se si fa eccezione per Virtus e eh Milano anche se se vogliamo anche l'anno scorso durante la regular season lascia vedere poi nei playoff le due squadre sono le due schiacciasassi e poi hanno dato vita a una bellissima serie finale eh però nella regular season complici chiaramente gli impegni di Eurolega le due anche Milano e Bologna hanno lasciato punti per strada Napoli ha vinto contro Milano anche l'anno scorso in casa Napoli ha vinto a Bologna per dire insomma tanto per dirne un paio eh e comunque squadre anche quotate come Brescia che l'ha mai fatto terza regular season l'anno scorso hanno faticato moltissimo prima poi di ingranare e arrivare ai playoff Brindisi, Venezia, squadre più blasonate con i favori del pronostico ci sono poi dovute guadagnare il piazzamento playoff con fatica e quindi secondo me sì la risposta alla domanda è sì ci sono queste squadre che hanno lavorato bene sul mercato eh cercando di eh creare gruppi come dire che rispondessero alle esigenze e alle indicazioni dei propri coach quindi eh squadre costruite anche con con budget non elevatissimi ma con con un criterio eh ben preciso di Napoli poi magari parleremo tra un attimo in modo più approfondito ma ma penso che questo discorso possa valere sicuramente anche per squadre come eh come la come la Reggiana tanto tanto per dirne uno e quindi sì io credo che come l'anno scorso noi al al alle spalle del due di testa l'anno scorso c'è stata Tortona che comunque ha fatto più o meno sempre corso da terza e secondo me quest'anno non sarà così scontato eh ci potrà essere una Brescia che secondo me vedo vedo molto bene per valori eh complessivi però dietro vedo un gruppone di squadre che possono giocarsi tutti i posti che vanno dalle ultime posizioni per le final per la qualificazione delle final eight bar tra playoff se saremo in giro di torno alla zona retrocessione l'anno scorso tra tra l'ottavo posto sesto posto e la retrocessione ballavano sei punti quindi veramente insomma l'anno scorso poi c'è stato anche tu lo ricorderai benissimo il caso Varese che ha rimescolato ulteriormente le carte nelle ultime convulse giornate però io credo che da questo punto di vista il livello che tra l'altro si è alzato va detto verso l'alto del nostro campionato cominciano a tornare in campionato italiano giocatori interessanti a livello anche insomma di americani eccetera faccio esempio anche di Napoli che si è accavarrato all'ultimo momento un giocatore come Ennis che comunque ha fatto tanta Eurolega quindi che può dare che ha tante esperienze nei miei doveva venire anche Caboclo a Banezia poi sappiamo ci sono stati un po' di problemi però insomma questo testimonia che la qualità del nostro campionato si sta alzando la partecipazione delle coppie europee diventa sempre rende appetibile alcune squadre per i giocatori di maggior talento e quindi secondo me questo fa sì che anche le squadre diciamo di meno accreditata all'inizio poi possano giocarsi un ruolo e giocarsi posizioni importanti durante tutto il corso del campionato. inizialmente ne vedremo delle belle bene sì esatto hai fatto un accenno al mercato perché comunque il mercato quest'anno ci ha portato tanti giocatori esperti molto molto interessanti uno su tutti direi Mirotic. è sicuramente la punta di diamante no la stella che è venuta a illuminare il nostro campionato e poi vedremo ne parleremo dopo si è già confermato su ottimi livelli in questo momento l'unico di Milano che è già in forma Eurolega se vogliamo. Esatto allora visto che stiamo continuando a rimandare e dire ne parleremo e parleremo dopo facciamo che ne parliamo adesso allora quindi passiamo a parlare di Napoli-Milano una gara dall'esito scontato prima di scendere in campo completamente rimbaltato da una Napoli super giusto? Giustissimo io ti dico la verità Napoli a Napoli c'era la sensazione di poter fare l'impresa perché le sensazioni su questa squadra per quello che mi riguarda mi sono confrontato con gli altri amici addetti ai lavori abbiamo parlato più di una volta col coach con l'amministratore delegato dalla Sala ex Reggio Emilia che quest'anno è venuto insomma a fare un po' da collettore dei tre comproprietari della squadra e del DS anzi del responsabile della tecnica Pedro Lionpar con l'avviato dal DS Peppe Riguri insomma l'impressione che la squadra fosse stata costruita con grandi criteri innanzitutto ci sia trovato quella figura manageriale che a Napoli negli ultimi anni era mancata appunto dalla Sala che adesso ha preso un po' in mano lui le redini della situazione come dire quindi dividendo bene le aree di competenza di ciascun elemento del club anche a livello proprio di organigramma e poi ha trovato questo responsabile della tecnica diciamo Pedro Lionpar che innanzitutto ha scelto l'allenatore e che ha dimostrato grande competenza pur essendo alla prima in pratica esperienza più un ex playmaker visto anche tra l'altro a Reggio Emilia e penso che lui che dalla Sala deve essere conosciuto di Lionpar quindi scelto l'uomo mercato lui è stato bravissimo a scegliere un coach che secondo me insomma voglio dire Napoli se lo deve tenere stretto perché abbiamo visto subito che è un allenatore che ha grande carisma io carismatico è l'aggettivo che userei per Igor Milicic che ricordiamo croato naturalizzato polacco due anni fa ha portato la Polonia in semifinale agli europei e adesso l'ha qualificata al preolimpico quindi una squadra che non ha una grande tradizione nel panorama continentale sta raggiungendo grandissimi risultati è un allenatore che si vede subito tende ad entrare nella destra dei giocatori che lo seguono in modo in modo forte e si è visto anche ieri durante i time out insomma parlare continuamente con l'allenatore quindi si vede si vede che ha le idee molto chiare una squadra che vuole difendere forte correre e tirare ha tanto talento tanti giocatori che possono tirare a tre punti e questo era l'obiettivo diciamo a livello tecnico che lui si era prefissato e che aveva anche illustrato in modo molto chiaro quindi con idee chiare anche alla stampa e secondo me la squadra è stata costruita con un budget diciamo limitato ma con grande intelligenza proprio per cercare di venire incontro a idee del coach tu ricordi conosci molto bene due dei giocatori che sono di presia Napoli che sono De Nicolao che è anche il capitano quest'anno di Napoli ripartiamo che Napoli ha cambiato tutto l'organico non è rimasto nessuno l'anno scorso il nuovo capitano è De Nicolao e Tariq Ovens che è il pivot di Napoli una squadra che sotto canestro ha l'unico diciamo un po' difetto perché è corta e un po' leggerina perché i tre lunghi sono Lever, Zubicic e appunto Tariq Ovens ma che è una squadra molto dinamica capace di correre e di ruotare molto in difesa quindi anche alternando zone particolari quindi una squadra che difende molto molto aggressivo e con tanti tiratori anche da tre punti perché Zubicic, Lever, Sokolowski che è un po' poi la longa manos di coach Micic perché è un giocatore che lui conosce molto bene Polacco che lui ha in nazionale che lui ha detto vedrete che è molto meglio di quello che avete visto anche a Treviso in Italia quindi io ero convintissimo di potergli fare ottimamente e poi appunto di due ciliegine finali Ennis e Pullen che sono due giocatori di Pullen anche di grande esperienza anche in Italia con Bologna, con Brindisi ma Ennis che è un play diciamo veramente di altissimo livello un play puro nel senso che è capace di prendersi anche conclusioni e segnare punti quando si aveva soprattutto in grado di far girare bene la squadra, trovare giuste soluzioni. Napoli ha vinto alla grande, alla grandissima a Sassari contro una squadra che comunque aveva i valori del pronostico segnando 111 punti, 55 nel primo tempo, 56 nel secondo quindi con una potenza di fuoco notevole ovviamente quindi c'era una certa attesa per questa partita perché si pensava di poter mettere in difficoltà una Milano che si era consapevole di questo sarebbe arrivata a giocare meno di 48 ore dopo una partita impegnativa a Istanbul contro il Fenerbahce, d'altro canto una partita che poi finita anche ai supplementari quindi ancora più energie spese dalla squadra di coach Messina. Ebbene però si pensava che magari Napoli potrebbe avere potuto far fatica in una partita a punteggio basso perché appunto a punteggio alto Napoli ha dimostrato di poter segnare tanto ma anche di subire comunque tanti canessi perché 90 punti con tanti possessi con una squadra che prova a correre e tirare in quel caso lì Milano poteva essere favorita e invece Napoli ha tirato fuori una prestazione eccezionale conducendo dal primo all'ultimo minuto con una difesa fortissima all'inizio Milano è stata tenuta a 5 punti nei primi 8 minuti, Napoli era 19 a 5 all'ottavo minuto poi chiaramente Milano affidandosi soprattutto a Mirotic ha pian piano ricuscito lo strappo e si è arrivati praticamente a punteggi 35 pari a fine primo tempo. Lì si pensava che la partita poi sarebbe inevitabilmente girata dalla parte di Milano che comunque ha una notazione più lunga, Napoli aveva già qualche giocatore con qualche fallo, due falli Zubcic che era stato tra i migliori nel primo tempo, quindi insomma un po' si pensava che si potesse soffrire. Invece Napoli pronti via, nel secondo tempo piazza un 11 a 0 di parziale, quindi si rimette a condurre e tiene sostanzialmente botta fino alla fine. Mirotic qui ha dimostrato anche grande lucidità, quando ha avuto, ha cominciato a vedere che c'erano problemi di falli dei suoi lunghi, anche negli ultimi due minuti nel terzo quarto aveva qualche fallo da spendere, ha messo in campo Mabor, un giovane fisico eccezionale ma tutto da vedere e da scoprire a questione di formazione italiana, stella azzurra, ha messo in campo Ebeling, quindi ha anche risparmiato per qualche minuto, ha costo anche di subire qualche canestro i giocatori per il finale. Poi Milano si era approvato a riaffacciarsi in partita, a 4-5 minuti alla fine è arrivata sul meno 3 e lì uno dei giocatori più attesi che fino a quel momento aveva latitato, cioè Pullen, ha dimostrato, insomma, tutta la sua classe che i cavalli di razza si vedono alla fine perché piazza due bombe, una su rimbalzo d'attacco da lontanissimo, quando tutti, me compreso, lo invitavano a ricominciare a giocare, invece di tirare, lui tira senza rimbalzisti, senza ritmo e segna, ne segna subito dopo un'altra, quindi 6 punti che poi diventeranno 8 in pochi minuti per un totale di 10 complessivi, però sono quelli che poi spezzano la partita e una bomba di Sokoloski ha definitivamente scavato il sulco, poi addirittura un paio di alle up Pullen Owens hanno definitivamente portato addirittura Napoli su più 17 e quindi in pieno garbage time Milicic si è concesso anche il lusso di un time out a 30 secondi alla alla fine che ha fatto imbestialire Messina e penso che questa insomma sarà legata un po' al dito, vedremo cosa succederà al ritorno, però insomma un allenatore di grande carisma che poi ha infiammato il pubblico, ha esultato in modo incredibile su una palla persa di Milano per l'inflazione di 24 secondi dopo una grande difesa di Napoli, quindi Napoli ha giocato sulle ali dell'entusiasmo con la consapevolezza di avere un gruppo forte che segue il suo allenatore e secondo me Napoli quest'anno costruita bene può davvero dire la propria per qualcosina in più di una salvezza tranquilla, io so che i senatori della squadra, i vari americani Pullen, Ennis hanno parlato di playoff nell'interno dello spogliatoio, penso che sia presto per parlare di playoff, però io credo che Napoli effettivamente quest'anno può far divertire il pubblico, il pubblico che ieri si è divertito, ha incitato, ha sofferto alla società la squadra, ma soprattutto si è divertito, è una squadra che divertisse il pubblico a Napoli, se ne avvertiva il bisogno perché negli ultimi anni le salvezze sono state davvero sofferte con tanta confusione, con un progetto che si è andato a decolare, dopo una promozione invece ho ottenuto molto bene la cursa sacripante, quindi davvero per quello che riguarda Milano io devo dire deludente, deludente inizialmente in attacco, ha finito poi molto presto per affidarsi solo a Mirotic, Megli ha avuto qualche lampo dei suoi, Schiltz quasi non pervenuto, Devon Hall aveva provato a ricuscire nei momenti determinanti, però insomma da una squadra come Milano ci si aspetta molto di più, ripeto, in una partita a punteggio basso io non pensavo che Napoli potesse poi condurre quasi sempre sulla doppia cifra di vantaggio, quindi onore a merito della squadra azzurra, Milano sicuramente si rifarà, anche contro Treviso non era sembrata una Milano brillantissima, l'aveva risolta nei minuti finali, è una squadra chiaramente ancora un po' in costruzione, che cerca ancora un po' la chimica e poi sicuramente deve fare i conti col doppio impegno che toglie energie, soprattutto nervose prima ancora che fisiche, anche perché fisiche non può essere un attenuante per una squadra come Milano che ha 12 giocatori da utilizzare, se pensi che un giocatore che tu conosci molto bene come Caruso entra praticamente solo in garbage time, ti fa capire quanto si approfonda la rosa di Milano, Flaccatori devo dire tra i nuovi dell'Olimpia mi è piaciuto, è stato uno tra i pochi anche nel primo tempo a tenere il botto, chiaramente è una squadra che poi verrà fuori, però Napoli si gode questa vittoria e è il primato temporaneo in classifica. Esatto, qui non mi viene una domanda, però è chiaro che quando hai un giocatore così forte tendi ad appoggiarti a questo giocatore, io credo che però la dipendenza da Milano, a parte che poi Milano ci va detto nella prima partita non aveva fatto benissimo, magari si è fatto sei punti, quindi insomma aveva fatto un po' più fatica, credo che questo denota il fatto che la squadra non è ancora ben amalgamata perché una squadra allenata da Messina cerca soluzioni in tutti i suoi effettivi credo che ieri in una partita come quella in cui non riesci a trovare, hai tirato anche molto male da tre per larghi tratti dell'incontro, insomma ti affidi al giocatore di maggior classe che ha la forza di prendersi la squadra sulle spalle per l'esperienza e il carisma ma insomma mi aspetto che non sia Milotic dipendente Milano e sicuramente conoscendo un allenatore come Messina, Messina non vorrà una squadra Milotic dipendente quindi probabilmente si è fatto di necessità per il turno nella partita di ieri in condizioni un po' particolari, però io credo che poi gli altri giocatori e ne sono tanti, forti, carismatici, in grado di dire la propria, di tenersi tiri importanti a Milano poi daranno una mano al campione, al fuori classe ex NBA, ex Barcellona insomma questo penso lo vedremo nelle prossime partite sicuramente Esatto, bene Vorrei parlare invece con te di Bologna-Varese anche se ti ho detto che in realtà da parlare c'è ben poco perché abbiamo insomma il risultato, lo dice, 115 a 84 come il dominio di una squadra, la Virtus Bologna proprio a schiaccia sassi su Varese e io che ho assistito la partita potrei dirti che appunto è stata proprio così una Virtus che praticamente non ha sbagliato nulla di quello che ha tirato un rapporto quasi uno a uno un tiro, un canestro di una Virtus che sembra quasi formato Eurolega se ne avessimo giocati 48 come si giocano in Eurolega a posti 40 che si giocano qui probabilmente sarebbe stato un 135 non lo so, comunque una Virtus veramente formato Eurolega Va detto però Nicolo ti chiedo a questo punto se tu ti aspettavi, io non mi aspettavo un impatto così devastante di Luca Banchi sulla panchina di Bologna perché ricordiamolo, ecco noi non abbiamo commentato la prima giornata di campione, neanche la Supercoppa Luca Banchi è arrivato tipo a 72 ore dall'inizio della stagione diciamo ufficiale con appunto le soldi in Supercoppa e ha vinto la Supercoppa, ha vinto la prima partita seppur soffrendo contro Scafati e ieri insomma ha dominato quindi un impatto importante Sì, secondo me è perché credo che Banchi e Scariolo abbiano pressoché la stessa etica di lavoro di comunque un gruppo già ben formato secondo me cioè un prodotto fatto e finito anzi forse ancora meglio con Banchi perché Banchi ha saputo comunque anche rintegrare il Felumberg che aveva avuto qualche c'è anche problema invece con Sergio Scariolo per cui secondo me e tra l'altro ha giocato anche una buona partita ieri contro Varese il Felumberg quindi secondo me il prodotto era già preimpostato quindi la squadra era già fatta con il reintegro di Lumberg che a questo punto abbiamo capito che il suo problema maggiore era Scariolo forse si è imprezziosito ancora di più conferma comunque che magari la come dire Bologna non ha magari comprato le stelle che ha comprato Milano ma forse la Virtus è più squadra di oggi 9 ottobre poi da qui in avanti dovremo vedere perché comunque anche la Virtus è partita se non erro con una sconfitta in Eurolega però comunque direi che ne sta uscendo abbastanza bene pur avendo cambiato comunque l'allenatore ha come detto tu a tre giorni prima del del campionato ecco quindi vedo una bella Virtus poi magari siamo stati anche noi di Varese che siamo andati un po' soffici siamo andati un po' un po' così a parte che apro e chiudo parentesi Varese penso sia una buona squadra ma molto molto corta fondamentalmente un cambio di Collinstein del centro non c'è perché ci sarebbe che è scottulano ma lui gioca più da 4 e non gioca neanche chissà quanto perché il cambio di Collinstein è ok che però rientra a gennaio se non febbraio visto che con Badalona quando era Badalona si è fatto molto male all'Anca mi sembra se non vado errato e deve stare cioè deve stare fuori praticamente un anno per cui Varese sì buona squadra chiaramente ieri da salvare c'è forse i primi 5 minuti però anche incredibilmente corta secondo me infatti con Pistoia è andata benino benino perché abbiamo vinto di un punto ma forse quella partita lì si merita di più Pistoia di vincerla per cui bene ma non benissimo mettiamola giù così e tra poco provare a iniziare anche il doppio impegno per cui già la vedo molto molto grigia adesso perché siamo cioè siamo già corti adesso che giochiamo solo la squadra corta poi il doppio impegno lo soffre lo soffre di più diciamo anche spendiamo anche due parole per Trento che è l'altra squadra in testa che forse adesso non l'abbiamo nominato va detto che chiaramente Trento bene comunque siamo con giocatori anche ex Milano da BD Galviti eccetera però direi che va vista poi con avversari di maggior spessore perché Trento ha giocato contro le due promosse quindi ha vinto in casa con Cremona e ha vinto in trasferta a Pistoia sempre diciamo non dominando nel punteggio con punteggi diciamo risicati però le partite e le vittorie valgono sempre due punti e quindi sono punti importanti comunque insomma diciamo anche Trento per il momento è la sua e cercherà cercherà di dire la sua io poi se vogliamo fare la panoramica della prossima giornata poi ne parliamo sicuramente la settimana prossima però insomma mi sembra molto interessante la partita la partita di Brescia la partita di Brescia tra Brescia e Napoli perché mi sembrano un po' le squadre che in questo momento hanno dimostrato di essere maggiormente in forma insieme a Bologna perché Brescia ricordiamo ha vinto ieri di 28 punti mi sembra non fa segnandone 99 a Treviso diceva prima Treviso che a Milano aveva venduto carissima la pelle e Brescia ha stabilito anche una specie di record mandando 5 giocatori con 15 punti o più quindi insomma voglio dire una squadra che quindi ha tanto talento come Napoli tra le mani perché comunque anche Napoli ieri ha mandato ricordiamo il miglior marcatore è stato Zubcic con 17 ma subito prima subito diciamo al ridosso c'è stato Sokolowski con 16 e quindi voglio dire e anche Owens Owens addirittura doppia doppia 16 punti e 10 rimbalzi lo stesso Levers 7 punti Javorski molto bene 9 punti 10 pollini quindi squadre che hanno tanti punti nelle mani e ieri non ha dato il suo contributo realizzativo come Ennis che poi di punti nelle mani li ha quindi sicuramente è una partita da vedere con grande curiosità tra due squadre che sono in grande forma che hanno un grande potenziale offensivo e cercano anche però di basare di costruire i loro successi sulla difesa quindi è una partita sicuramente che dirà anche un po' il livello diciamo già raggiunto da Brescia e anche fammi dire le ambizioni di Napoli che insomma al di là di questo poi Napoli continua ad avere un calendario tosto perché dopo avrà avrà Brindisi e poi Bologna due partite consecutive in casa dopodiché finito questa cinquina terribile poi Napoli potrà andare a far punti da qualche altra parte vedere un po' quindi vediamo alla fine di questo ciclo quanti punti avrà la Gevi e quindi capiremo anche un po' che tipo di giro è andata potrà fare però io direi che effettivamente la partita di Brescia tra la Germania e la Gevi è una partita da seguire con particolare interesse esatto quindi riassumiamo la prossima giornata e ci salutiamo Sassari Treviso sabato 14 sempre sabato abbiamo Brescia contro Pesaro Venezia e Cremona domenica Milano-Reggiana Brescia-Napoli Trento-Virtuzbonia Scafatti-Pistoia e chiude la giornata Varese contro Tortona anche Milano-Reggiana è insomma una partita interessante e anche la partita di Bologna contro Trento che diciamo appunto prima vediamo un po' se Trento saprà confermarsi una giornata interessante bene siamo arrivati alla fine Giac io vi ricordo sempre prima di salutarci che siamo disponibili anche su tutte le piattaforme di podcasting se ci state guardando iscrivetevi al canale se ci state ascoltando invece continuate a farlo sulle nostre piattaforme di podcasting ma tutto l'altro che devo dire podcasting mamma mia vado in alto è un po' difficile la parola diciamo continuate a farlo anche su tutte le altre piattaforme come google podcast apple podcast eccetera eccetera insomma già lo sapete ci vediamo la settimana prossima ciao ciao ciao